Isola dei famosi 2024, è finita. Mercoledì 5 giugno, in diretta su Canale 5, si è conclusa la prima edizione del reality show targata Vladimir Luxuri e non senza colpi di scena, ha vinto Arasenol contro i favoritissimi Edoardo Stoppa e Samuel Peron, ma andiamo con ordine. Un'edizione, la numero 18, che non è piaciuta a Pier Silvio Berlusconi che a quanto pare l'ha trovata debole e con poche storie raccontate. L'Isola dei famosi di quest'anno non è stata un'edizione particolarmente fortunata, ci sono state delle cadute di stile. La scelta di non far vedere tutto, mi ha trovato in disaccordo. Così Pier Silvio Berlusconi durante la conferenza stampa in occasione della conclusione della stagione televisiva 2023-2024 poche ore prima della finalissima e il riferimento è probabilmente al caso Francesco Benigno e alla decisione, da parte del reality di non mostrare inizialmente le immagini che lo hanno portato alla squalifica. Ma nessun ripensamento, invece, sulla scelta di affidare a Vladimir Luxury alla conduzione dell'Isola dei famosi. Vladimir è una scelta che rifarei oggi, si è impegnata tantissimo. Cosa è successo alla finalissima? In sei a contendersi il titolo, Edoardo Stoppa, Edoardo Franco, la Contessa Alvina, Arasenol, Samuel Perón, rimasto in solitaria, e Artur Dainese. E con grossa sorpresa di tutti, che scommettevano su Stoppa o Franco, a battere tutti, un televoto dopo l'altro, è stato l'attore di Terra Amara. Arasenol ha conquistato la vittoria della diciottesima edizione dell'Isola dei famosi battendo alla sfida finale Samuel Perón con il 69% dei voti del pubblico contro il 31% conquistato dal protagonista di Ballando con le stelle. Quindi l'attore, modello ed ex votatore classe 1993 ha parlato del monte premi. Come per il grande fratello, il vincitore dell'Isola dei famosi si è aggiudicato un monte premi di 100.000 euro in gettoni d'oro, con la metà della cifra da devolvere in beneficenza. Arasenol ha scelto di donare 50.000 euro alla fondazione di Giulia Cecchettin, quando sono stato ospite a Verissimo ha visto la sua storia, ha spiegato durante la diretta della finale.